Ciao a tutti, faccio questo mini video per farvi conoscere le nuove implementazioni nel tuo CRS e T-Way. Ne abbiamo ben 5, partiamo comunque dalla prima. Innanzitutto è stato fatto un miglioramento della fase di attesa durante una ricerca da mobile, con la foto che è a schermo pieno. Nella versione desktop invece è stata aggiunta la località per cui si fa la ricerca. Ora vi faccio vedere sia la versione da mobile che poi anche la versione desktop. Inseriamo la nostra ricerca, le date, facciamo cerca ed ecco che quindi è a schermo intero come stiamo vedendo. Come vedete siamo passati invece ora nella versione desktop, dove appunto invece è stata aggiunta la località per cui si fa la ricerca. Quindi qui abbiamo inserito gli estremi della nostra ricerca, facciamo cerca ed ecco che quindi è stata inserita la località. Passiamo ora alla seconda implementazione, come vedete sono già sulla schermata dei trasferimenti, dove è stata migliorata la possibilità di modificare una ricerca impostata inizialmente. Che cosa è stato fatto? In sostanza è stata migliorata l'usabilità che ora è praticamente identica alla modifica di ricerca dell'hotel, quindi rendendo più immediata la modifica. Andiamo qui a fare cerca su quello che ho impostato. Ecco qui nella nostra pagina, se clicchiamo su cambia il tuo viaggio, ecco come è stata modificata la schermata. Siamo tornati ora nella versione mobile e parliamo della terza modifica, ossia del modulo activities. Ora è tutto in un'unica schermata ed è possibile vedere il numero delle activities presenti, il calendario, il numero di packs e il menu dei filtri. Impostiamo ad esempio la nostra attività, facciamo cerca ed ecco che vediamo i risultati. Ecco qui. 216 attività vicino a Milano, le date, il numero di partecipanti e i filtri. Come vedete molto bello, molto facile e quindi molto più usabile anche sulla versione mobile. Sono ritornata ora invece nella versione desktop, in particolar modo vi sto facendo vedere una ricerca di un noleggio auto. Questa è la quarta implementazione che è stata fatta, che è veramente molto bella e molto importante. In sostanza è stata ridisegnata la tabella degli extra e viene quindi indicato immediatamente se l'extra è da pagare al momento della conferma oppure presso la stazione di noleggio. Ve lo faccio vedere qui. Clicchiamo su extra ed ecco che ne ho l'elenco. Se io clicco qui, attivandone uno, ecco che qui in altro mi dice extra pagamento presso l'ufficio di prelievo. Quindi mi dice già subito che non lo dovrò pagare qui ma presso l'ufficio. Inseriamone pure un altro ed ecco che fa le aggiunte. Normalmente gli extra sono quasi tutti da pagare presso l'ufficio. Quindi, importantissimo, ve lo segna qui. Siamo invece ora arrivati quindi alla quinta e ultima modifica che è veramente molto interessante e riguarda l'aggiunta di trasferimenti tramite la Magic Box. Cosa significa? Significa che quando ho la possibilità, quando ho la necessità di aggiungere un trasferimento ad una prenotazione già confermata, come in questo caso io sono all'interno di una prenotazione già confermata, è stato migliorato il motore di ricerca per poter inserire il trasferimento. In precedenza, quando volevamo prenotare un trasferimento, il sistema ci portava ad un riepilogo per poi scegliere nuovamente le date e la destinazione. Ora invece questo passaggio è stato eliminato e il sistema aprirà automaticamente la modalità di prenotazione, riducendo quindi il numero di click e fare quindi una ricerca molto più immediata. Ecco qui, come vedete, vi rimanda direttamente a questa schermata dove naturalmente tutto già inserito dovrete eventualmente solo comunicare i dettagli che mancano per poter fare subito la ricerca. Il nostro CRS ha veramente sempre tante novità, viene costantemente migliorato e vi terremo sempre aggiornati su quali sono le nuove implementazioni importanti per poter così lavorare anche voi al meglio e poterlo sfruttare veramente in tutte le sue potenzialità.